Buongiorno, benvenuti a questa videoanalisi del 28 settembre 2016, videoanalisi che potete ricevere gratis via email se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa, videoanalisi realizzata insieme al broker STO, quello è il sito internet, sotto di me scorrono i contatti di Marco Pianezza, eccoli qui che stanno per uscire, il suo numero ufficio di Milano 02 e anche l'indirizzo email potete anche andarlo a visitare negli uffici di Milano di STO. Prosegue la volatilità, ne abbiamo parlato lunedì scorso con Angelo Ciavarella dagli uffici proprio STO di Londra, si alternano giornate positive e negative, mercati che sono praticamente intrappolati in una fascia grafica, resistenza e supporti brevi, una fascia di incertezza, una bada, un trading range, non lo so, dove proprio in questo momento si stanno prendendo una pausa per capire se a rialzo, ritornare il trend rialzista o ribassista. Petrolio, elezioni americane sono i driver, market driver, sicuramente quelli che adesso potranno dare la direzione, anche Brexit, ancora che, come diciamo lunedì con Angelo Ciavarella, ancora non c'è stato il Brexit, attenzione, quindi non è stato ancora attivato l'articolo 50 del trattato di Lisbona. Cominciamo a vedere un po' di grafici, grazie alla piattaforma MetaTrader MT4STO, questo è l'indice NIC, vedete proprio anche lui all'interno, questo è un grafico Aikinashi, sono molto simili alle candele giapponesi, la differenza è che prende in considerazione anche i prezzi delle barre precedenti, infatti Aikinashi, tradotto dal giapponese all'italiano, significa media della barra, l'utilità di questi grafici e soprattutto fanno vedere quello che è il trend in corso, è anche una possibile, individuare quella che potrebbe essere l'inversione quando cambia il colore. La situazione in questo momento sull'indice NIC, la vedete qui, viene giù dal 17.000, sono questi i livelli, quindi 17.000, 16.000 per quanto riguarda l'indice giapponese. Se poi andiamo invece a vedere gli indici americani, questa è la situazione, quindi vedete, quello che, anzi facciamo così, potete apprezzare ancora meglio, questo è il Nasdaq, quindi, vedete, banda 4874, siamo sui massimi storici, invece la parte bassa 4710, invece per quanto riguarda l'indice S&P 500, il più importante, quello più rappresentativo, che viene preso come benchmark, riferimento da tutti i fondi indici del mondo, 2188, che praticamente anche qui resistenza sui massimi storici, 2129, siamo a metà strada, guardate, proprio i grafici sono, anche in un momento di incertezza, i grafici sono chiari, ci dicono che in questo momento è meglio non prendere posizioni, anche non essere operativi, è una scelta importante, che può portare ad evitare delle perdite, se non perdete, indirettamente, soldi guadagnati, è un guadagno anche quello, questa è la situazione del Dow Jones, quindi, come vedete, sono tutti, Nasdaq è attaccato, più vicino alla resistenza, però, per parlare di un nuovo ritorno del trend rialzista, deve rompere quel livello, questo è il Dow Jones e questa è la situazione dell'S&P 500, l'indice NIC abbiamo visto 17.000, 16.000, andiamo a vedere adesso la situazione anche degli indici Euro, ed eccoli qui, il nostro Fuzzimib, attenzione, che sta testando un supporto niente male, 16.100, se dovesse venire giù da qui, vedete, potrebbe anche poi testare il livello successivo in area 15.400 punti, quindi, insomma, è un bel livello ostico, qua le bande di oscillazione, la parte alta 17.000, 3.50, 16.100 per quanto riguarda, invece, il nostro Fuzzimib, che ovviamente la sorte dipende molto dall'andamento dei titoli bancari e finanziari, questo è il DAX, invece, che la sua banda è tra i 10.800, 10.800 è davvero un livello micidiale, da lì non è riuscito ad andare oltre l'indice tedesco, e la parte bassa 10.345, poi, giusto, facciamo così per, mi sbrigo prima, l'Eurostox, 3.091 punti, la parte bassa sono qui, praticamente, verso i 2.950, questo è l'indice inglese, così, magari, mi tolgo un attimo e lo potete vedere che è molto simile, sta replicando molto da vicino quello che è l'andamento degli indici americani, e poi qui questo è l'indice, invece, quello spagnolo, insomma, quindi tutto abbastanza... si aspetta, insomma, inutile inventarsi delle cose da dire in questo momento, mercati in attesa di capire gli sviluppi. Vediamo adesso gli asset in dollari, a cominciare Forex, alcuni cambi e, soprattutto, materie prime, e qui c'è una situazione, oggi si conclude il meeting informale legato ai paesi produttori di petrolio, le posizioni restano distanti, le dichiarazioni, i rumors che arrivano continuano a essere contrastanti, quello che si augura, almeno oggi si sarà poi un annuncio finale, dove probabilmente non verrà comunicato nulla di definitivo, però, come diceva qualcuno, come mi sembra il ministro venezuelano ieri, almeno porre le basi in questo meeting informale per qualcosa di più concreto nel meeting che ci sarà a fine novembre, quello ufficiale OPEC. La situazione dice, in questo momento, il petrolio, che è quotato anche in dollari, quindi segue anche le dinamiche della valuta americana, resta sopra il supporto 43,85, ma, vedete, le candele, c'è una fase nettamente laterale, tutto fermo, stand-by. Chi, invece, sta solleticando la resistenza in area 1,32 e 23, USDCAD? Ieri ci è andato vicinissimo, a un certo punto era qui sopra, ma poi ha chiuso sotto. Insomma, bussa, bussa, è un tappo che, una volta tolto, potrebbe portare ad un'accelerazione. USDCAD è correlato inversamente col petrolio, potrebbe quindi essere una brutta news, per chi sta speculando a rialzo sul petrolio. E USDCAD è famoso anche per essere un po' il Bund, l'obbligazionario del Forex, quindi segue un andamento inverso negativo, correlato negativamente con Wall Street, quindi un rialzo di USDCAD potrebbe anche significare vendite su Wall Street. Però non sono automatiche queste correlazioni, mi raccomando. Gold, oggi c'è una ripresa, ci sono acquisti sul dollaro, e gold che era salito praticamente, proprio anche non volendo, grazie alle vendite sul dollaro, quindi gold barra USD, USD scende, e gold, così senza fare nulla, si ritrova a salire al rialzo. E oggi, vedete, è anche stata confermata questa candela rossa, c'è questa resistenza di breve intorno ai 1.340 dollari, sembra voler puntare e testare nuovamente la parte bassa, questa è la parte del canale, supporto 1.309 dollari. Andiamo a vedere altre coppie di valute, con l'euro che in questo momento è sotto, leggermente, praticamente sotto 1,12, la sterlina che stava disegnando una possibile candela verde, siamo sempre su supporto post-Brexit, anche qui vedete fasce di oscillazione, però poco fa, e anche adesso è proprio sotto 1.30, perché c'è stata una dichiarazione di un membro della Bank of England che ha detto che probabilmente saranno necessari ulteriori stimoli monetari, politica espansiva. Alla stessa Bank of England, il governatore McCartney aveva detto se a novembre, il mese prossimo, le stime fatte ad agosto saranno confermate, stime e proiezioni ovviamente relative all'economia, GBP, saranno ancora confermate, GB, GBP no, GB, confermate, Pound, la P finale, saranno confermate anche a novembre, allora vuol dire che o si taglia o si fa quello che praticamente ha confermato, ha detto, ha ribadito adesso un altro membro della Bank of England, e quindi sono partite delle vendite, il dollaro-yen è sempre lì sul supporto, area 9900, candele rosse che si assottigliano, potrebbe invertire, questo invece è il cambio correlato positivamente intermarket con Wall Street, quindi se USDCAD va nella direzione opposta solitamente, non sono automatiche queste correlazioni, se solitamente va nella direzione opposta USDCAD a Wall Street, dollaro-yen invece segue l'andamento dell'S&P 500 e dell'indice Nikkei, che abbiamo visto, l'indice Nikkei sta soffrendo, sembra volete stare presso il supporto a 16.000, Wall Street è lì nel limbo in alto, dove ci sono i massimi decisamente storici, quelli interessanti. Vediamo quindi anche la situazione di mercato obbligazionario, che perché con STO potete anche investire su questo tipo di mercati, chiedete a Marco Pianezza e vi dice tutto, questo è il 10 anni T-Bond americano, Treasury Bond, Bond 10 anni e il nostro BTP, e qui potete vedere graficamente si sta allargando lo spread, invece di salire allo stesso modo come sta salendo il Bund, invece vedete più fermo o piatto con Renzi, che in questo momento anche sta rilasciando delle dichiarazioni, gli è rappresentato anche il DEF, il documento di economia, di programmazione, insomma, che vedremo se sarà accettato dalla comunità europea, visto che sfora un po' quelli che sono i paletti imposti dalla comunità europea. Insomma, per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortesa attenzione, appuntamento a domani, buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.